Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio riportarvi la mia recensione barra impressioni sulla Radiomaster TX12. Allora, questa Radiomaster è una radio per principianti, comunque è fascia entry level, visto che comunque con il codice sconto che trovate nella descrizione del video viene sui 50€. Allora, sinceramente la prima cosa che vi posso dire è che per 50€ mi sarei aspettato molto, molto meno. Ho già fatto l'unboxing, ho già fatto il volo con alcuni droni e con questa radio, l'ho utilizzata anche con il simulatore e oggi vi voglio riportare un po' tutte le impressioni. A 50€ vi posso già dire che abbiamo molti protocollo, quindi potremo bindare riceventi come Flysky e FRsky. Potremmo metterci il modulo esterno come Crossfire ER9M, ad esempio qui basta che tiriamo fuori la placchetta, io l'ho già utilizzato con il Crossfire e funziona molto, molto bene, senza nessuna modifica, senza fare niente. Con una radio da 50€ potremo anche effettuare degli upgrade in futuro, soprattutto se comunque ci troviamo bene. Allora, a 50€ per quanto riguarda i materiali, a mio avviso è anche fatta troppo bene. Abbiamo la rotellina in metallo molto, molto comoda, i vari pulsanti che ci permettono veramente, come sulla Radio Master Grande, di creare il modello, di spostarci nel menu, cambiare cose in pochi secondi. Allora, qui possiamo mettere anche il laccetto, molto, molto comodo. E qualcuno di voi si potrà chiedere come vanno i gimbal. Per quanto riguarda i gimbal, per chi se lo chiedesse, non sono degli all, però nelle sessioni di volo li ho trovati molto, molto precisi. Quindi non è che mi sono trovato male o comunque ho trovato difetti. Anzi, per quanto mi riguarda, mi sono anche trovato bene e sono riuscito a pilotare i vari droni bene. Per quanto riguarda invece gli switch, ne abbiamo uno, due, tre, quattro, con tre posizioni, quindi più che sufficienti per fare tutto, più due pulsanti che comunque potremo utilizzare sempre come switch. Altra cosa che vi segnalo è che la radio utilizza un vano batteria dove possiamo metterci o due 18650, che hanno comunque un'ottima durata, oppure una LiPo 2S. Diciamo che questo più o meno è come la Radio Master Grande. Altra differenza invece è che il cavo Type-C qua sopra, che andremo a collegare, serve sia per ricaricare la radio e sia per utilizzare la radio con il simulatore. Sul simulatore non ho avuto nessun tipo di problema, è riconosciuta al primo colpo senza fare chissà cosa. Noi colleghiamo semplicemente il cavetto, sullo schermo ci viene scritto se vogliamo utilizzare la radio come joystick oppure come memoria di massa. Ho trovato molto comodo anche questo poggia radio. Allora, all'occorrenza, come sugli ultimi upgrade della TX16S, potremo chiuderlo oppure aprirlo. È comodo perché quando dovremo mettere la radio nello zaino occupa meno spazio, quando invece la dobbiamo un attimo appoggiare sul banco, lei potrà stare in piedi. Bene ragazzi, mi sembra di aver detto tutto su questa radio, almeno per quanto riguarda le mie impressioni e per quanto riguarda le conclusioni, niente, a 50€, allora in questo momento non so se c'è qualcosa di meglio perché abbiamo una radio multiprotocollo, la possiamo utilizzare col simulatore, con tutti i droni. In futuro, se vogliamo metterci il crossfire o un altro modulo esterno, possiamo farlo tranquillamente senza modifiche e se impariamo a volare con questa, finché non ci starà stretta, potremo utilizzare questa. Abbassando comunque il budget per entrare in questo mondo FPV, 50€ più visore, più drone, rispetto magari a una radio che ne costa 100, 200 e passa, ci permetterà di approcciare questo mondo con una spesa comunque minore. Considerate comunque ragazzi che se vi piace questo hobby, allora questo e poi concludo ragazzi, non per dirvi che dovete risparmiare il più possibile, però per chi volesse entrare in certi budget, questa è un'alternativa che mi sento di consigliare perché per esperienza il discorso comunque di spendere un pochino di più all'inizio per poi cambiare meno cose successivamente in caso vogliate continuare con questo hobby, è sicuramente un consiglio azzeccato. Però mi rendo conto che magari spendere subito cifre importanti per radio, drone e visore magari non è da tutti insieme a tutti gli altri accessori che servono per iniziare e quindi avere sempre alternative con la consapevolezza che poi magari possiamo cambiare è sempre a mio avviso una alternativa appunto in più. Detto questo, noi ci vediamo col prossimo video e non mi rimane che salutarvi, ciao! Allora, 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 ok, arriviamo qua, guardate che bel solino, trac, e andiamo indietro. Allora andiamo indietro fino laggiù in fondo, ok, allora non sto facendo un taglio, quindi non sto facendo un rewind da dietro, ma lo sto facendo in tempo reale, cioè in post, ma lo sto facendo realmente. Allora arriviamo indietro fino al, wow, pensavo che era più difficile sinceramente, ma si fa bene, si fa bene. Una volta capita un attimo il movimento degli stick qua di là, guardate che bello, fra un po' ci dovremo essere nel buco, dai, dai, madonna, ma sembra lontanissimo comunque, che ansia, eccoci ragazzi, wow, eccolo qua, siamo arrivati qua, perfetto. Torniamo indietro da qui così, ok, 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 allora, torniamo indietro, allora, dovevo stare un po' di qua a destra perché sennò ho la macchina. Allora qui abbiamo i paletti, ok, perfetto, wow ragazzi, torniamo qua indietro fino a dove c'è la macchina, sperando di non fare danni contro la macchina, stiamo un po' più a destra, ok, non dovremmo beccare la macchina se stiamo qui a destra, al massimo becchiamo un palo, eccoci, wow, bello prendere le misure così, quindi adesso io faccio così, e, 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 no, mi sono bloccato, vediamo, ok, uhuhu, bello, mamma mia ragazzi, allora, ottimo, ottimo, è bello perché mi diverto con poco, allora, sicuramente come, diciamo, questi qui sono, è la seconda volta che esco con la Radio Master, e TX12 e il feedback a mio avviso è buono, è buono, allora, proviamo a fare anche il flip perché ancora non ho visto, non ho fatto, ok, oh, osta però, anche il flip non è male, e niente, niente ragazzi, io sono per il momento soddisfatto, mi sarei aspettato molto meno per una radio da 50 euro, la corsa degli stick in realtà non è neanche poi così malvagia, devo provare, eh, perché le prove sono tante, adesso io qui sto facendo un po' a caso, devo provare con un 5 pollici perché sono curioso. e ci permetterà magari di approcciarci, ci permetterà comunque di iniziare questo mondo con un... detto questo ragazzi, è...